Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Oggi giocheremo all'elicottero dei pompieri, o meglio puliremo l'elicottero dei pompieri. Eh sì, ci tocca ragazzi, ci tocca! 600 rollari per pulire questo bestione. Io nel frattempo vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi sta piacendo e se la serie vi sta piacendo anche per supportare il canale. Iscrivetevi al canale, condividete il video e commentate facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo gioco. Detto ciò, andiamo a vedere cosa Denver Drill ha il serbo per noi. Ehi, a niente sporco, abbiamo un elicottero maledettamente sporco da sistemare. Il tuo amico Cal è andato a cacciarsi in un bel casino suo al monte Rushless. Il poveretto delirava per i gas vulcanici ed era convinto che il dannato gatto del sindaco fosse lì insieme a lui. Adesso sta bene, ma l'elicottero sembra che sia appena stato vomitato dalle viscele della terra e detto tra noi, ci è mancato poco. Tra poco arriveranno le truppe televisive, perciò se potessi usare il tuo tocco magico ci toglieresti le castagne dal fuoco. Grazie ancora. Beh ragazzi, c'è una lore che si dipana, eh, dietro questi lavori che facciamo. C'è proprio una lore. Infatti, se vi ricordate, il tizio che andava sul... Tra l'altro c'è un obiettivo che sto per missare qui. Il tizio che andava sul vulcano ce lo descriveva nel livello del camion dei pompieri. Come obiettivo di questa mappa dobbiamo pulire per prime le pale. Quindi andiamo a pulire le palle dell'elicottero per prime. E ecco qua. Facciamole prima tutte dal basso e poi andiamo in alto. E ecco qua. Come sempre vi ricordo che durante il gioco parlerò molto poco perché prima di tutto non c'è molto a commentare. Secondo, vi lascio godere appunto del rumore della idropulitrice che molti trovano ASMR e dello sporco che se ne va senza appunto un inutile commento. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.